E' pronta la bozza preparata dalla provincia di Teramo per la creazione della holding pubblica compartecipata da tutti i comuni del subcomprensorio teramano che dovrebbe occuparsi della gestione dei rifiuti. Questa mattina se ne è discusso nella sede della provincia, aprendo così la proposta al contributo di tutti i soggetti interessati. Tra i favorevoli all'unione dei comuni nella gestione di un settore che nel teramano ha creato non pochi problemi è il sindaco di Roseto, Ennio Pavone. Chi opera col buon senso non può non essere favorevole, l'obiettivo è quello che i rifiuti della nostra provincia rimangano nella nostra provincia e l'abbiamo ottenuto questo risultato con la riattivazione del polo tecnologico. Adesso c'è questa situazione del fallimento dichiarato del CIRSU, in attesa della magistratura e quindi degli appelli che sono stati fatti, dell'appello che è stato fatto sia dal CIRSU che sia dai comuni, si può cercare di fare in modo di lavorare anche se il CIRSU dovesse tornare in bonus per costruire un polo unico in provincia di Teramo e che sia un polo di riferimento per tutti i comuni della provincia con l'obiettivo appunto di ridurre le tariffe, quantomeno per le spese di trasporto. Non tutti i sindaci però sono d'accordo, i maggiori dissapori ci sono nella Val Vibrata. A guidare la fronda del no, il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura. Mi convocano forse per fare una nuova holding, io ho detto che da oggi per fortuna la palla torna a Notaresco perché se viene decretato il fallimento dovranno passare per la prima volta sulla mia pelle e Notaresco stavolta si dirà basta. O si riparte con condizioni diverse da quelle che sono perché su quella zona inserà un grosso investimento industriale perciò non è che posso far venire investitori e trovarmi un letamaio a qualche metro perciò o rinegoziamo la gestione del CIRSU perché non possiamo più fare gli sbagli degli anni 90. Notaresco da due anni che non percepisce un becco di un quattrino. Perciò se qualcuno pensa ancora a livello regionale, perché qui giustamente arriveranno i rifiuti da tutte le regioni trattate di poter venire a scaricare brutalmente a Notaresco senza che Notaresco percepisca un eco ristoro di disagio questo non accaduta più.